Opere pubbliche a Sapri se ne discuterà in un vertice promosso dall'Associazione Sapri Democratica. L'iniziativa, promossa dal Sodalizio che sostiene la maggioranza dell'amministrazione locale, è finalizzata a dare risposte ai cittadini che si interrogano ormai da tempo sullo stato dell'arte dei lavori in città e sui lavori programmati per il prossimo futuro dallo stesso esecutivo del Medico. Per questo motivo, dal gruppo, hanno invitato il sindaco e l'assessore al ramo Giuseppe Ricciardi a fare il punto su quanto richiesto. Abbiamo detto si parlerà di opere, tra i progetti da monitorare, quello del Cineteatro Ferrari e quello della piscina comunale. Per l'occasione, annunciato il sindaco Giuseppe del Medico, sarà resa nota la relazione tecnica stilata da un pool d'esperti al termine delle verifiche sulla staticità del Ferrari. La relazione, ha dichiarato il primo cittadino, dimostrerebbe che i lavori non potevano essere eseguiti se non prima di interventi di consolidamento. Dalle prove sismi, che ha poi precisato, è venuto fuori che l'edificio è inagibile e quindi, prima che i lavori riprendano, devono essere eseguiti interventi di messa in sicurezza, cosa che noi di Sapri Democratica, ribadito del Medico, abbiamo sempre richiesto alla vecchia giunta ad Agostino, che ha curato la parte iniziale dei lavori. Allarmi richieste, evidenziato il sindaco, cadute però nell'indifferenza della vecchia maggioranza. Oggi, invece, ha spiegato, occorre capire cosa fare per il futuro utilizzo. Altra opera, altro punto interrogativo, la piscina comunale. Paradossalmente, in questo caso, ci ha riferito il sindaco di Sapri, le casse comunali hanno speso circa 300.000 euro senza vedere l'opera realizzata. Per evitare gli errori fatti in passato dalla vecchia amministrazione, la nostra maggioranza, detto il sindaco, ha dato incarico per uno studio per capire la sostenibilità finanziaria dell'opera. È terminata, ha concluso Giuseppe del Medico, la stagione delle opere pubbliche è giusto per cantirarle. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, le opere da realizzare a Sapri dovranno essere funzionali e non creare danno come invece si è fatto fino ad oggi.